Buonasera a tutti e bentornati a un buon appuntamento di quattro chiacchiere. Stasera sono arrivate delle domande nuove per la puntata precedente sul matrimonio cinese, quindi la puntata di oggi si incentrano sulle domande. Ospiti questa sera ovviamente c'è Mei dalla Cina. Ciao Mei! Ciao! Ciao! Buonasera! Buonasera! Ciao! Ciao! Silvia da Scandicci, Firenze! Ciao Silvia! Ciao Wen! Ciao Bella! E poi di nuovo c'è Xin da Shanghai, dalla Cina. Ciao Xin! Ciao! Ciao a tutti! Vediamo, il format di stasera è molto semplice. Io porto le domande che sono arrivate dal pubblico e la rotazione, però nell'ordine di Mei, Ziyan e Xin risponderanno. Quindi, dalle prossime volte, se avrete delle domande, sappiate che le nostre ospiti dovranno rispondere se arriveranno delle domande interessanti. Va bene? Quindi, oggi cominciamo con questo format e partiamo subito dall'argomento della scorsa volta. Il Zailin, la dote per la sposa. Scusa! Eh, sentiamo. Si può passare domanda se uno non ha voglia di rispondere? Uno può dire, non vorrei rispondere, posso non rispondere, oppure... Non ho commento. Eh, no, può rispondere in un'altra maniera. Magari non può dire la sua opinione, ma può dire la cosa in generale. Questo lo possiamo accettare. È meglio una risposta alternativa che piuttosto non rispondere, perché comunque le domande arriveranno. Cioè, più uno non risponde, più uno esisterà. Di solito è così la faccenda. La cosa si infittisce. Vabbè, mamma mia, che domande... No, ci sono... Ma qual è il motivo per cui non vuoi rispondere? C'è un motivo, una motivazione, perché non ti interessa rispondere, non sai per quale motivo? Non so per quale motivo, poi perché ho già spiegato. Comunque, vai, vai, no, era una curiosità mia, solo così, tanto per capire. Vai pure con le domande. Va bene. Oppure vuoi cominciare a che si spieghi qualcosa? No, 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 vado con le domande, perché per spiegare avete tante di quelle puntate che a Iosa possiamo registrarne. Qua arriva... Le domande devono essere dichiarate, perché sennò il pubblico non ci segue più. Ok. Ok. Sai lì, sentiamo sai lì, ma cosa ne pensate voi veramente? È così importante per voi? Siete d'accordo o no? E per... C'è interesse per la vostra vita? Cioè, domanda ipotetica, eh. Non voglio sapere dei fatti vostri. Voglio solo sapere cosa ne pensate e se siete d'accordo o no. Cominciate a me. Comincio io. Ma io... Per me è secondo al contesto in cui vivi, no? Per esempio, se io vivessi... Cioè, vivendo in Italia e che mi sto dovendo fare il matrimonio, sposarmi in Italia, anche se il mio lui è cinese, il contesto in cui sto, come dire, secondo me, dà meno peso a questa usanza, perché sono lontana, no? Principalmente. Quindi anche la famiglia magari lo ritiene meno importante. Quindi può essere fatta oppure non fatta. Invece se vivi in un contesto dove per i tuoi parenti, sia di lui che di lei, è molto importante, ecco lì tocca avere una mediazione coi propri parenti e coi nuovi futuri parenti. perché da quel che mi sembra di percepire questo usanza e questo merito è proprio una questione di relazione che si costruisce per le due famiglie, aiutando a formare la nuova coppia, no? Quindi è un rito che si fa non tra due persone, ma tra due famiglie. Quindi dipende dove vivi. Quindi hai dato una risposta aperta. Mi è concluso in quest'anno. Ok, hai altro da aggiungere? No. Ok, posto. Silvia, sei pronta? Favorevole o contraria? E cosa ne pensi? Allora, io sinceramente non sono favorevole, nel senso che almeno per le seconde generazioni o per quelle future, alcuni usi e costumi possono essere mantenuti come solamente pro forma, nel senso nel rito, ma non deve essere necessariamente così dettagliato, con i doni, cinque cose, sei cose, alcune cose in oro, alcune cose in contanti, perché mi sembra un po' passato questa cosa. Perché, insomma, viviamo in realtà ormai talmente dinamina che mantenere alcuni riti come essenziali, no, come una cosa folkloristica oppure un rito che si fanno per accontentare i genitori, se effettivamente ambi i genitori, insomma, lo vogliono. Perché se uno non lo vuole e l'altro lo vuole, potrei dire che si può farne almeno. Cioè, non è una formula indispensabile per la coppia nuova, sostanzialmente è quello che mantiene la coppia e la riunione fatta e stanno bene, si amano e comunque sono pronti ad affrontare le difficoltà, non queste cose beni materiali oppure scambi di doni, insomma, che poi alla fine sono inutili per certi aspetti. Io non sono dell'idea di, insomma, si fanno per accontentare i genitori perché magari c'è una certa età, ma secondo me col tempo si andrà sempre a fare di meno questi usi e costumi che comunque fanno parte della, diciamo, del medioevo cinese, io direi, neanche non sono favorevole comunque. Ok, quindi tu metteresti una mano sul cuore, sulla coscienza, lo faresti per i tuoi, ma per i tuoi figli lo... Sì, si farebbe, si fa, cioè non chiederei mai ai miei figli di fare, lo dovrei fare io per i miei genitori perché vengono comunque da una generazione ancora più vecchia, però io per i miei figli non credo proprio, ok, direi di fare una cosa del genere. Interessante, interessante. Te, Sheen, sei favorevole o contrario? Cosa ne pensi in generale? Non sono, per il tuo punto di vista, l'identità come rispondere a questo. In generale penso, la penso come Silvia, quindi non ritengo una cosa, non la ritengo sicuramente una cosa obbligatoria da fare, sicuramente la si fa per i genitori, perché a mio parere col senno di poi, diciamo, perché io sono sposata e questa cosa è stata fatta quando io e il marito ci siamo sposati e l'abbiamo fatto soprattutto perché i genitori lo volevano, per loro era importante e quindi si è fatto questo rito. Però diciamo che ci sono senti anche, c'è stato anche un momento molto difficile, proprio perché non si riusciva a trovare l'accordo, e però col senno di poi, dico, è stato anche importante farlo perché ci ha messi molto alla prova ed è stata una delle tante difficoltà che abbiamo dovuto superare e oggi come oggi, mi dico, se non fossimo riusciti in quel momento a superare questo ostacolo, probabilmente sarebbe stato meglio non sposarsi e questo magari lo penso anche per molti miei amici o per le persone che ho vicino. Ho capito. Sicuramente in futuro non lo farei con mio figlio, però come diceva Silvia, i miei genitori sono vissuti in un'altra epoca, per loro era un simbolo importante e l'hanno voluto. Questo è interessante, pensare alle generazioni future, di non pretenderlo. May, tu vorresti commentare questa cosa? So che è sempre qualcosa, uno punto di riflessione su questa cosa dei figli, di non volerlo per i figli. Ma più che una riflessione sui figli, perché io non potendo parlare in prima persona, no, ma figli, stavo riflessendo mentre... No, no, fai una riflessione come se tu fossi una madre. No, stavo... Non fai a parlare? Stavo riflettendo sulle parole che diceva Silvia e Zancino, la parola chiave che può essere il rito, la cerimonia, e lo si fa perché le generazioni precedenti l'hanno sempre fatto o lo fai un po' per soddisfare i tuoi genitori, no? Se si tratta di rito, per esempio, veniamo in Italia, no? I matrimoni... Sappiamo che i matrimoni... Per molti italiani, soprattutto che sono credenti, è molto importante sposarsi in chiesa, giusto? Avere tutto quel rito lì della cerimonia in chiesa, l'abito bianco, eccetera, eccetera. Benché le nuove generazioni magari dicono io non sono così fedele, non vado in chiesa ogni domenica, e comunque ho altre credenze, no? Però è arrivata in questa fase fatidica, perché io ho già conosciuto, adesso mi è venuta in mente, ci sono persone che dico io mi sposo e organizzo, a seconda di tutta la tradizione che si vuole per sposarsi in matrimonio, perché i miei genitori ci tengono, lo faccio per i miei genitori. E quindi da una parte dico lo faccio per i miei genitori, dall'altra dico io non sono così cattolico, così fedele, cioè non è che dico davanti alla chiesa ci sposiamo finché morti non ci separi, c'è una formula. Lo sappiamo oggi che il divorzio è molto frequente, quindi questo rito in quanti ci credono finché morti non ci separi. Eppure al giorno del matrimonio molti lo fanno, perché così è stato, così si faceva, e lo si fa per dare soddisfazione ai propri genitori, vedere la figlia andare all'altare, il ragazzo sposarsi come si deve, eccetera. Se Silvia diceva che questi certi riti bisogna tagliare e farli fuori, mi domando quanto sia facile farli fuori, perché appunto questa cerimonia del Tsai Li non è nata vent'anni fa, perché capito io c'era da secoli fa, perché anche se c'è stata un'evoluzione naturalmente, all'inizio erano piccoli doni, piccoli gesti, poi con la mano del cambiare la società, anche il benessere della società, questi riti sono rimasti, ma sono diventati forse un po' più complessi a seconda della società in cui si vive, della zona in cui ci si trova, del cerchio di, del livello di istruzione in cui da qui si parte la coppia, eccetera, eccetera. Infatti oggi è diventato un rito simbolico. Quanto è facile cambiare oppure far sparire questi riti, perché i riti arrivano da un percorso storico, quindi è così facile dire boh io alla prossima generazione, i miei figli non li faccio fare più questi riti, perché secondo me non sono importanti. È così facile cancellare certi riti, è così facile dire ai giovani, boh, credete nel... Nel senso io ci avrei qualcosina per quale motivo, insomma, le nuove generazioni lo stanno facendo. Adesso ti dico per quale motivo, perché le nuove generazioni lo stanno facendo. Finisce quello che vuole finire? No, no, era una riflessione che stavo facendo in questo momento, poi nel contempo anch'io ho pensato a un esempio. Allora, il problema di fare per accontentare i nostri genitori è che questa fase di Tsai Li, molte volte i nostri genitori se la sono sempre immaginati, ma non hanno mai ottenuto un vero Tsai Li, perché nella generazione dei nostri genitori, post comunismo, non avevano i soldi per fare Tsai Li. Chi l'ha passato sa che cosa succede nel Tsai Li. Era un rito che tutte le donne dell'epoca sognavano, ma non hanno mai avuto, perché era il periodo del post-culturalismo e della guerra. Quindi è un sogno che i nostri genitori si immaginano, e quindi lo proiettano su noi, che in qualche modo viviamo una fase di benessere che ce lo possiamo permettere. Ma sostanzialmente loro non hanno mai vissuto Tsai Li, perché se l'avessero vissuto, sarebbe stato differente. Il problema è che non avendolo vissuto, c'è questa pallina di cristallo che praticamente vaga nella loro testa come se fosse una cosa che loro non hanno ottenuto, ma noi figli lo dobbiamo fare. Sì, è naturale. Perché chiunque l'ha passato sa che cosa effettivamente è, ma chi non l'ha passato si può immaginare, ma non sa che cosa effettivamente è successo, perché lo vedo con i miei genitori, con i miei zii, che comunque si sono tutti sposati negli anni 70, 80, quindi dove c'era ancora la povertà, non c'erano i soldi per fare questo tipo di dichiarazione della dote. Però è una cosa che nell'antichità si faceva, nel senso che i miei nonni si sono sposati con il rito buddista, con tutto questo rito, ma erano nobili. Capito? Quindi quando proviene da una famiglia, sì, quando tu discendi da una famiglia nobile dove comunque i tuoi nonni parlano di tutti questi riti che poi sono riti medievali, comunque degli anni 20, degli anni 10 della Cina, è normale che il figliolo si proietta che anche per figliolo ci sarà questo. Avendo fatto il salto del passaggio che i nostri genitori non l'hanno fatto, adesso si ripropone su di noi pensando che fosse una cosa tipicamente culturale cinese. È quello che... Comunque attenzione a non... Però se uno dice, guarda, un conto sono gli effetti della Chiesa perché c'è la parte legale, perché chiunque si sposa in Chiesa, finché morte non ti separi, te puoi anche chiedere divorzio, però per la Chiesa Cattolica te sei sposato. Sei sposato? Sì, perché te sei accanto. Però gli effetti se ti sposi in Chiesa e il rito civile sono due cose completamente differenti. Perché hanno due registri. No, io... E sono due cose differenti, ma noi qui stiamo parlando di una cosa che riguarda il rito cinese, che però i cinesi l'hanno presa la buona e se la fanno un po' come gli pare. che poi è quello che poi decide sui effetti del matrimonio. Comunque, attenzione a non concentrare troppo questo concetto di Tsai Li, del dono, troppo sul denaro, perché oggi si parla che questo Tsai Li è, come dire, materializzato col denaro, ma in passato anche laddove si parla di gente comune, il dono poteva essere anche semplicemente una mucca, dei vestiti, da roba da mangiare, dove l'uomo donava la famiglia di lei e quello era già... è un dono. E però il problema... Oggi è spesso in denaro. Adesso è tradotto in denaro perché dato che si parla delle zone rurali, quindi lo scambio era sui beni materiali della terra, delle cose, ma dato che stiamo ormai parlando di città, tutto quanto, i cavalli, cioè le mucche non ci sono più, quindi le persone come formula si fanno passaggio di soldi. Sì, io devo fare attenzione a non focalizzare che il dono non è per forza una questione di denaro. Oggi parliamo di denaro perché che ci vuoi fare? Viviamo nell'epoca dove domina il consumismo, per cui... Però bisogna fare attenzione che si parla di un dono, quindi un dono è proprio un gesso che si dà. Poi che io te lo do in denaro o che ti compro come dire i mobili della casa è la stessa cosa, è comunque un dono, capito? È un rito, capito, che ti dà questo dono. Sì, è un rito, il problema... Prossima domanda, vai! Sì, hai qualcosa da aggiungere riguardo a questa cosa del rito, del dono? Io penso, sinceramente parlando dell'esperienza personale penso che i miei genitori sono andati in Italia negli anni 90, quindi in realtà loro diciamo non hanno mai pensato di fare matrimonio alla cinese, non hanno nemmeno come funzionasse, però nel momento in cui si sono trovati davanti a dover affrontare questa questione hanno cominciato a chiamare tutti i parenti, gli amici, gli amici degli amici, i vicini, allora che si fa, che si dà, cosa deve fare, cosa non deve fare, eccetera, eccetera, eccetera. Così è stata cosa... Mia suocera è pure una... Loro sono in una piccola città vicina a Wenzhou, però hanno sempre vissuto a Shanghai, quindi anche loro diciamo hanno cominciato in quel periodo vi ricordo bellissimo a sentire tutti i parenti così e alla fine siamo arrivati che da una parte la sua c'era che voleva seguire il proprio rito quindi fare come si doveva fare dalle loro parti no? E i miei genitori che si facesse come si facesse dalle nostre parti perché noi comunque veniamo da due città diverse anche se molto vicine quindi non si già di partenza siccome in Cina è predominante in maschio quindi mia suocera si sentiva già diciamo offesa da questa cosa che noi non volevano da parte dei miei genitori non volevano cedere su questa cosa Cedere nell'avere il sai lì o non avere non ho capito scusa Cedere nell'avere il sai lì di come doveva essere fatto di loro parti Ah Silvia ci sei ma di dove sono? Sì adesso ci sono Non è solo la cifra cioè non è solo la cifra è tutto il funzionamento diciamo di quanto dare quanto ridare e poi di come fa a funzionare il matrimonio cioè di come organizzare il matrimonio chi doveva pagare chi non doveva pagare cosa si doveva pagare cosa si doveva dare ai parenti insomma tutta una serie di cose che i miei genitori fino a quel momento non avevano mai affrontato e nemmeno gestito no? E tutto è stato fatto perché i vicini gli anziani o i parenti o i parenti dicono guardate che quella famiglia ha fatto così quell'altra ragazza ha ricevuto questo quell'altra ragazza ha dato questo quindi tutto per sentito dire e la pressione sociale delle persone vicine è stata talmente forte che poi è prevalza sulla loro personale opinione perché in realtà loro non avevano un'opinione su questo cioè per loro poteva io mi potevo sposare liberamente però non è stato così perché io ad un certo momento li ho sentiti talmente persi no? li ho sentiti persi e poi senza una come posso dire cioè che stavano stavano lottando per qualcosa in che nemmeno loro ci credevano era solo per vincere era solo per vincere la battaglia perché lascia finire finisci pure cioè quindi diciamo che era solo per avere l'ultima parola no? perché se non la vincevano loro significa che la loro figlia in futuro loro mi dicevano no perché questa cosa se loro non mollano allora tu quando entrerai nella loro famiglia ti tratteranno male cioè era una cosa che a un certo punto era diventata assurda e quindi io mi chiedo cioè mi sono chiesto no no ma cioè cosa stiamo facendo cioè a un certo momento io e mio marito ci siamo detti ragazzi allora cioè va bene tutto quello che volete fare e non volete fare cioè terminiamola qua questa cosa perché se voi oggi non terminate qui noi due non andiamo da nessuna parte a sposarci ci sposiamo comunque però né senza né il tuo consenso né cioè né il consenso dei tuoi genitori né il consenso dei miei genitori se vogliamo fare matrimonio così la facciamo se invece volete finirla qui allora venite al matrimonio siamo tutti contenti e facciamola finita facciamo finta che non sia successo niente e alla fine ci siamo è andato proprio così secondo giorno ci siamo svegliati abbiamo detto ok pace nessuno parlerà più di questa cosa andiamo avanti però diciamo che è rimasta questa cosa nella questa cosa diciamo inconclusa e quindi ogni tanto si tira fuori non è andata a buon fine e ancora dicono no perché sai lei allora comunque le due famiglie non sono molto molto in serenità no perché noi siamo andati avanti in questo modo certo chi chi vuole commentare mei o Silvia comunque mi spiace si sente un po' di sofferenza non hai altre domande? no potrete andare avanti perché comunque mi sembra interessante io io penso che nel senso che in questo modo cioè se qualche parente si fosse fatto avanti o qualche zio avesse detto ma che cosa state combinando perché non lasciate fare ai giovani perché comunque riguarda la loro vita in qualche modo si sarebbe in qualche modo pianificato pacificato la cosa però il problema è sempre che voi comunque siete di parte perché siete diretti interessati e se non c'è nessuno che fa da moderatore purtroppo rimangono a mare i due genitori cioè i quattro genitori direi perché comunque cioè chiunque si sposa dice io non vedo l'ora di concludere questa cosa non è che me posso portare avanti la situazione in guerra perenne una situazione che in teoria chiunque si sposa ha già una preparazione prima stress accumulo di problemi e quant'altro però il problema è che poi i genitori si rendono cioè non si rendono conto della difficoltà della coppia che sta attraversando pensano che la loro priorità sia superiore alla coppia cioè non capiscono che è la coppia i protagonisti non sono loro i protagonisti invece i genitori quando una coppia si sposa si sentono loro protagonisti della situazione e quello è il problema dei cinesi secondo me perché mentre in Italia si dà l'importanza alla coppia che in quel momento sta celebrando la loro riunione d'amore invece per i cinesi non è la coppia sono le due famiglie che si stanno praticamente mettendo insieme per far funzionare che poi è un tipo di pensiero delle famiglie allargate ma non c'è più questa cosa cioè poi pure in Cina i genitori stanno da sole non stanno mica coi figli i figli stanno da sole però c'è sempre questo pensiero che i genitori stanno a livello gerarchio superiore a alcune situazioni fino a un certo punto perché poi per i cinese è molto il fatto la presenza che sia consapevole oppure che sia condiscendente che la coppia deve dare benestare alla coppia e quello è il problema mentre invece qua se i genitori danno o non danno è molto aleatorio perché in Italia ci sono coppie che i genitori non ci vanno d'accordo uno si sposa anche senza il genitore cioè voglio dire non è quello il problema però in Cina è molto sentito che deve avere benestare da entrambi i genitori è come se io vado a chiedere la mano della figlia i miei consuoceri devono essere contenti e a sua volta i miei genitori devono accogliere tutto per tutto la mano della nuova ragazza che entra nella famiglia cioè stiamo parlando purtroppo di situazioni che ormai non esiste più ma neanche in Cina però te la fa pesare il fatto l'opinione del vicino o cose del genere ma che te frega voglio dire in Cina purtroppo si vive ancora questa realtà in cui cioè se uno sa quello che vuole va avanti se uno si fa abbandonare oppure senti un po' di qua un po' di là siamo un miliardo e trecento e trecento voci insomma comincia a essere un problema io sono dell'idea che c'è troppo casino è un po' sì è un bel casino perché ognuno chiede a chi vuole ai propri pari per quello c'è questa cosa dell'usanza orale c'è poco di scritto infatti non so May vuoi aggiungere qualcosa o parlo con la prossima domanda anche Tessi hai qualcosa da dire no penso di no che i giovani d'oggi sono abbastanza sufficienti secondo me i giovani d'oggi sanno abbastanza che cosa vogliono e che cosa è meglio per loro questa è la cosa importante perché poi se non sai che cosa è meglio per voi diventate praticamente pedine dei vostri genitori è tutto là May aggiungi pure io ho sentito un caso come dire ho sentito un caso che può essere interessante come dire riflettere per esempio appunto in Cina la Cina è grande non dappertutto i riti hanno lo stesso peso e lo stesso come dire valore magari alcune parti danno valore a qualcos'altro per esempio ieri parlando con un'amica cinese qua in Cina dice che al sud questa cosa del Sai Li non è così pesante cioè è comparata a tutti gli altri riti uguali se c'è c'è se non c'è è lo stesso e poi mi ha raccontato l'esperienza diretta di sua figlia che si è sposata no perché gli ho detto ah beh se al sud non si dà così tanto importanza alla cerimonia al rito del Sai Li quando tua figlia si è sposata cosa è successo e lei mi fa mia figlia non mi ha detto niente si è sposata con lui si sono andati in comune si sono andate a sposare e non ha fatto non ha fatto neanche la cerimonia né alla famiglia di lui né alla famiglia di lei e quindi entrambe le famiglie si sono trovate come dire con la fritta pronta e tranquillamente lei vive felice a casa con i propri suoceri i suoceri li guardano i due bambini lei continua a studiare il marito lavora è successo disastroso semplicemente i due ragazzi stavano insieme da molto tempo entrambi le famiglie già si conoscevano ad un certo punto finito la scuola tutti e due si sono laureati hanno deciso che era ora di sposarsi punto si sono sposati l'hanno comunicato ai genitori alla famiglia e quindi la famiglia magari pensavano di poter se l'avessero saputo di preparare la cerimonia di valutare il Zailir invece non hanno avuto più nessuna possibilità cioè e lei ci è rimasto un po' male non la madre però dopo di che ha detto ma è andata così i ragazzi si sono sposati si sono messi d'accordo sono felice nessuno delle due famiglie è più discusso basta questo mi fa pensare che poi si è successo si la frittata è già fatta non ha senso mi fa pensare che a volte che a volte il cambiamento sta nelle mani dei giovani ci sono giovani che sono come dici tu convinti di quello che vogliono lo fanno direttamente magari il cambiamento può esserci sta nelle mani dei giovani portare avanti hanno questi riti accontentare o no i genitori farlo per se stessi o farlo per gli altri si fa come dicevo cioè si fa per accontentare i genitori ma quando i genitori cominciano a fare cose strade insomma bisogna dargli le dritte anche perché insomma non è che non sono la voce finale siete voi la voce finale delle persone che stanno decidono sposare non loro loro sono secondari quindi la priorità è la vostra riunione non quello che cosa pensano gli altri perché quello che pensano gli altri oggi pensano domani se lo dimenticano quindi insomma no comunque la cosa vive molto felice tranquillamente non hanno problemi di litigi tra le due famiglie stanno insieme hanno due bambini i due e i giovani lavorano e i bambini vengono come dire ci sono i nonni che le guardano quanti anni hanno la coppia ma cosa lei ha 36 anni credo tipo comunque sotto i 40 anni giovane mi fa piacere giovane sì 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 il bambino più grande il bambino più grande però ha 4 anni ha piccolo quindi è nato dopo il matrimonio possiamo dirlo sì è nato dopo il matrimonio no la frittata fatta era il senso che si erano già sposati non che era incinta lei no la frittata fatta è che loro si sono scusati basta dopo che un anno dopo hanno deciso di avere figli e è incinta no tutto regolare no semplicemente loro hanno fatto saltare tutta la cerimonia tutta la questione dei riti delle due famiglie che si dovrebbero parlare mediale niente non hanno voluto allora di norma si fanno questi ridi quando si ha una famiglia molto allargata e comunque c'è i gugini sì che l'hanno fatto quindi fa piacere anche ai tuoi genitori che lo fai anche te però nulla toglie che se tu non hai parenti che hanno fatto non hai una famiglia tradizionale puoi essere contentissima a fare le cose più semplici capito quindi non dipende molto dalla coppia che cosa vogliono che cosa non vogliono tutto là secondo me queste seccature di zai lì tanto vedrai col tempo sarà sempre di meno che poi io quando ero piccola io quando ero piccola non se ne parlava molto di zai lì io vi parlo degli anni 90 quando hanno cominciato a sposarsi le mie cugine che c'hanno tutti i 20 anni e non se ne parlava perché entrambi i genitori loro non c'erano quindi era sempre qualche zio qualche parente che faceva praticamente capofamiglia non essendoci genitori loro hanno saltato tutta questa parte perché se voi chiedete a qualsiasi cinese che si è sposato negli anni 80 e 90 vedete che non ci sono tutte queste regole perché queste regole stanno tornando perché c'è il benessere c'è comunque più possibilità allora tutti ti mettono in modo che deve essere folcloristica devi farlo vedere cose del genere ma in realtà non è mai esistito da quando che sono piccolo fino adesso ti parlo di dieci anni fa di questo zai lì così importante perché adesso c'è un ritorno di questa cosa io lo vedo con le mie nipoti che però i genitori evidentemente non hanno mai avuto quindi si proiettano sui figlioli per fargli questa cosa ma in realtà è molto una cosa vecchia non è fattibile non è punto centrale di due persone sostanzialmente la società la società è cambiata la società è cambiata con questa discussione attenzione uno non ha ricevuto i soldi non vuol dire che non abbia ricevuto un dono perché noi stiamo parlando di un dono matrimoniale oggi è vista in forma di denaro ma in passato non era così per cui non è detto che non abbia ricevuto un dono magari il dono era sotto qualche altra forma no? prossima domanda quindi tu la vedresti in modo anche più romantico cioè il dono è molto più come si dice immaginario è una questione di fiducia è una questione di fiducia tra le due persone e le due famiglie credo perché un dono si dà come gesto di fiducia gesto di affetto perché un dono tu pensi solo al dono senza pensare al denaro che cos'è? tipo a Natale io faccio un regalo a te posso regalarti 100 euro perché so che ne hai bisogno così come posso regalarti un paio di occhiali nuovi perché penso che ti stanno bene che ne so no? comunque di fatto ti ha regalato un dono sì il dono in senso quindi l'ho fatto per affetto è vero proprio in quel senso proprio affetto oggi si parla di denaro perché siamo una società concentrata sul denaro tutto quasi si ruota intorno al denaro infatti quando adesso si parla di cercare però se poi lo metti sotto forma di denaro diventa un problema perché finché un regalo è diverso puoi regalare una collana però quando viene tradotto in soldi e comincia a essere un bene non differente che poi un conto è una catenina un braccialetto qualcosa che comunque ha una cifra prestabilita di 100 200 dubito che ti regala un braccialetto da 10 milioni o cose del genere insomma per esempio quando si tratta di soldi ma nel fidanzamento io ci direi vabbè il livello costa 5 euro no il ragazzo vuole la però può però può essere di varia fascia nel senso dipende che anello di fidanzamento gli fai se gli fai diviamente è normale che c'è un posto ma se gli fai oro oro bianco insomma è già più che discreto anche là non è è il problema che essere tradotto in soldi è quei soldi che poi non ha più limite di esserci infatti anche in Cina il dono dei soldi può essere 1000 RMB così come può essere 100 RMB non lo sai è una questione di diverse donne però c'è una tariffa prestabilita hai capito comunque c'è una tariffa non è che gli puoi dare 5000 RMB perché non ha valore perché c'è una tariffa di base di partenza quando fai un dono non c'è una base di partenza capito è differente proprio il misurino perché sono due pesi e due misure differenti che non sta allo stesso livello no io dicevo che tu dicevi all'anello può essere anche semplice e non per forza di diamante così come il dono può anche essere appunto due RMB due yen di gesto simbolico così come 200 perché la famiglia della sposa quindi varia è differente varia alla seconda del contesto della famiglia del livello sociale eccetera eccetera mi puoi spiegare meglio quel biglietto dono da due RMB il gesto simbolico che qua ha la foto davanti che mi hai inviato prima sì che ha fatto lo rende proprio questo questo gesto no come un semplice dono un scambio che non è importante quanti soldi ci sono dentro è importante che io te l'abbia dato questo dono e che tu lo accetti e dopodiché una volta accettato mi aspetto in qualche modo che tu me lo ricambi no qui magari entra in argomento il quili e Zhang Xin che ne vuole parlare quindi proprio un gesto di dono non è una questione io quanti soldi ti ho dato ti ho dato questo dono dentro ci sono solo due RMB ma non importa è il gesto di fiducia che io ti ho dato è un dono che ti voglio dare dopodiché se tu accetti e non fai discussione ha solo due RMB vuol dire che cioè se fai discussione vuol dire che mi sei come dire guardi il mio portafoglio e non la persona se invece tu lo accetti vuol dire che mi ami per quello che sono no è molto molto romantico bello il gesto sì secondo me riporta il valore del dono e non dei soldi quindi al gesto e alla fiducia e questo cosa ci dici come traduzione introducirci all'argomento di quelli secondo me allora cioè mi piacerebbe che fosse così ecco ok no non cominciare così più gioia più gioia dai più speranza più anteusiasmo no è vero è vero che siamo una società di consumisti però dobbiamo essere anche un po' direi che è proprio un rito arido che nessuno è proprio arido non dà niente a nessuno lo rendono arido sì nessuno lo vorrebbe fare ma nessuno allo stesso tempo ha coraggio di dire di no è questa la realtà secondo me i fatti sì nelle 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 grandi città deve essere così secondo me soprattutto se sei ma anche nelle piccole città nei villaggi mi sa nei villaggi è più pesante nei villaggi si fanno tutti gli affari tuoi e tutti vogliono sapere quanto hai dato quanto hai ricevuto esatto secondo me voglio un conto corrente sì non è non è una battuta ma tecnicamente cos'è quelli nella cerimonia perché qua c'è scritto ricambio del dono return dare indietro sì quando ricevi ricevi questa questo dono da una parte del futuro sposo esatto la ragazza dovrebbe la ragazza o comunque la famiglia della ragazza in realtà dovrebbe restituire indietro o ricambiare no e questa potrebbe ci sono varie soluzioni in questo caso dipende poi dalla famiglia cosa fa o restituire indietro diciamo la somma che ha ricevuto quindi l'intera somma grazie sì come ringrazio della fiducia te lo rido a tutti ho capito che ti fidi oppure esatto oppure dare una somma maggiore e questo lo fanno solitamente le famiglie molto benestanti oppure famiglie con figlia unica perché comunque i genitori diciamo quelli che danno di più sono solitamente quei genitori che ti dicono già con i soldi guardate che mia figlia è una è una principessa per me quindi trattatela bene no e noi noi non ci mancano i soldi cioè questo è il vittaggio che viene dato sì è vero oppure si dà solo diciamo si restituisce in parte dimmi si restituisce anche dimmi ma chi si restituisce la famiglia di lui la famiglia di lui ecco oppure la ragazza li usa per comprare del futuro marito sì oppure la ragazza li usa per comprare l'arredo no della nuova casa o le altre cose giusto sì no sì dipende da come vorrebbe utilizzare i soldi però solitamente se non restituisce nulla diciamo che la famiglia dello sposo non è molto contento ma invece c'è questa mia amica mi diceva che appunto dipende molto dai casi a volte quando la ragazza la famiglia della ragazza è molto più povera rispetto alla famiglia di lui quando la ragazza riceve indietro riceve i zai lì e deve restituire il dono può restituire con un valore simbolico tipo se ne ho ricevuto 200.000 ne restituisco solo 2.000 gli altri il resto che sono rimasti vanno ai genitori di lei e proprio perché la condizione di partenza economica della famiglia di lei è un po' più bassa di lui quindi il futuro questo mi spiegava lei il futuro sposo dice non ho bisogno che me le restituisci lasciali pure a tua mamma e papà perché ne hanno bisogno in questo modo il futuro marito dimostra di aver già assolto i suoi doveri nei confronti dei suoceri quindi in futuro non potrà avere recriminazione che non li ha aiutati in questo caso mi diceva la ragazza può tenersi i soldi e fare una restituzione simbolica oppure non restituirli affatto ma sapendo già che vanno alla famiglia di lei ci sono queste dinamiche qua anche decidere la ragazza sì questo l'avevo sentito anch'io in effetti del ritorno sotto questa formula perché dipende molto appunto dalla condizione sociale della ragazza e quindi i genitori di lui sono già ben preparati dicendo bene sanno già che questi soldi una volta tirati fuori non torneranno perché è anche un modo per ringraziarsi i genitori di lei che l'hanno cresciuta tutto quanto e quindi è un modo di ringraziamento sostanzialmente e di aiuto in forma economica alla famiglia di lei che comunque non sono così aggiati come loro esatto che in futuro non potranno recliminare che il genere non è stato generoso secondo me dipende tutto dalla partenza come si sono esposti i genitori i ragazzi perché se i ragazzi già parlano chiaro di com'è la situazione alla fine i genitori però molte volte non se ne parla perché secondo me quando si parla di soldi si arriva solamente quando al dunco c'è fidanzamento c'è matrimonio tutto quanto ma prima di tutto questo non si parlano delle condizioni economiche come è messo come non è messo e molte volte il maschio evita anche di dirle ai propri genitori lo stato economico della propria fidanzata proprio perché ha paura che magari i genitori possono dire ma questa è una poraccia non la vogliamo c'è anche questo il problema perché quando tu ognuno di noi conosce i propri genitori quindi uno si fa un'idea che quando stai con qualcuno uno si fa un'idea se può piacere o no i propri genitori giustamente se i tuoi sono imprenditori industriali cose del genere non è che gli puoi portare a casa uno statale perché dice che c'è con 1500 capito è vero no ma è vero ben sembra una cosa stupida in Cina nell'epoca del post comunismo era stato fatto che gli statali stanno con i statali chi fa piccolo imprenditore sta con piccolo imprenditore oppure è difficile che uno che ha la licenza elementare si mette con una universitaria perché uno perché non hanno problemi di comunicazione e due dicono per forza questa prima poi ti lascia che discorso può fare con te cioè come fai ad arrivare al suo livello capito quindi c'è proprio una classe sociale dove considera che le persone di una certa classe sociale deve stare con le persone della propria stessa classe sociale proprio perché poi ci possono essere problemi perché non sai se questa sta con te per i soldi non sai se questa sta con te perché i tuoi genitori comunque sono ricchi e sanno che anche se te non ce l'hai prima o poi li avrai questi soldi è proprio per evitare questa parte economica quando vedono che comunque la ragazza non ha problema economico e lui non ha problema economico non c'è uno scopo che può essere della rottura i problemi economici ho capito ma perché è già sommantato questo problema sì sì secondo me a volte anche la partecipazione attiva no del dei dei due della coppia è un problema è molto problematica perché la concezione economica che hanno i ragazzi e i genitori è completamente diversa e magari i ragazzi veniamo da due generazioni eh? veniamo si viene da due generazioni totalmente differenti sì sì uno per quello e uno perché comunque la coppia cioè la coppia sicuramente tra di loro hanno hanno vissuto insieme un certo periodo di tempo magari non hanno convissuto però sicuramente hanno saranno usciti insieme l'avranno mangiato insieme hanno fatto una vita insieme da non so solitamente un anno almeno no? cioè parliamo dei carri diciamo in media e quindi il ragazzo pensa ma secondo me questa ragazza non è non è pretenziosa e questa cifra basta no? poi il genitore invece solitamente è quello che si informa su in media quanto si potrebbe si dovrebbe dare a questa ragazza e già questa è una discrepanza perché solitamente diciamo quello che pensa il ragazzo non è esattamente quello che pensa il genitore poi la ragazza invece parte da tutt'altro punto di vista perché dice secondo me a me deve dare questa cifra perché se no non mi ama perché è sempre quello sempre di discorso no? perché se non me lo dà non mi ama e da lì partono ma quello è un problema culturale però quello è un problema culturale che i genitori innescano nel cervello delle ragazze ma secondo me non è che lo innescano perché siamo le cinesi sono educate in modo diverso però questo problema non è che lo innescano in quel momento ma perché proprio di fondo c'è un'educazione diversa sì eh sì cioè nel senso che l'amore di due persone sia basata su una cifra cioè è quello che non riesco a capire cioè che cosa è che perché loro sono abituati perché allora a questo punto è il rito che crea questo problema perché se è il rito che può essere usato o non è usato secondo me non è il rito che crea il problema il problema di fondo vero è che che in quel momento scopri che tu hai dei valori di vita diversi cioè se hai dei valori di vita diversi dei punti di vista di su cose così importanti no diversi anche se in quel momento tu eh cioè trovi d'accordo in futuro ci sarà sicuramente qualcosa per cui c'è questa coppia scoppierà e quindi secondo me è meglio saperlo in quel momento dici ok abbiamo talmente tanto cioè siamo talmente differenti nei valori di vita che non possiamo siamo due persone che sono destinate a non stare insieme ma infatti è per quello che io ho sempre pensato che io con cinese non potrò mai starci perché vediamo siamo cresciuti in due realtà totalmente differenti che io al primo cinese dopo una settimana divorziamo non neanche dopo un mese dopo una settimana divorziamo è proprio una contanna vai no è un problema Mei di pure domande 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 no la domanda viene adesso naturale perché pensare a tutto questo rito ha messo una grande agitazione gli italiani cioè gli stranieri che vivono o convivono con dei cinesi o delle cinesi le coppie miste hanno una gran paura mi hanno detto proprio questo ma cosa si deve aspettare dal matrimonio c'è un rito c'è un prezzo da pagare c'è loro a che leggi devono stare soprattutto cosa si devono aspettare chi vuole cominciare qua andiamo a Silvia o Mei o Xin chi vuole cominciare allora dite prima voi se volete allora io diciamo che se sono due persone che sono cresciute in due realtà completamente differenti valori differenti non le consiglio non le consiglio perché è talmente complicato è complicato per me che io sono comunque cresciuta qua ho più valori europei che quelli cinesi e nonostante questo mi dispiace per la parte cinese nel senso che i miei non sono molto tradizionalisti su alcune cose e non mi hanno mai detto devi fare così cosa però vedo in loro che a loro piacerebbero che comunque fossi più parte cinese e quindi questa cosa mi dispiace perché i nostri genitori hanno la nostra radice quindi non accontentarli vuol dire comunque non dare un minimo di soddisfazione almeno in queste cose me ne rendo conto mi dispiace però io sinceramente non ce la faccio accontentare i miei genitori con tutta la buona volontà e infatti io tuttora sto con un ragazzo e sono 18 anni che siamo fidanzati e sono 15 anni che convivo quindi voglio dire io sono fuori da tutti i canoni però se dovesse consigliare allora se due persone si vogliono bene devono togliere tutti i paletti tutte le tradizioni perché la tradizione modernità non va a pari passo se vuoi essere moderna fai la moderna la tradizione la devi lasciare fuori puoi fare la cosa tradizionale allora lui si deve accollare tutta la parte cinese se a lui va bene ha voglia però dato che l'europeo medio non ce la fa perché loro pensano che la parte tradizionale sia solamente una cosa folclorista rito di passaggio ma non è incestato proprio effetti e lascia perdere tempo perso ok chiarissimo perché poi i problemi poi non escono solamente durante il matrimonio che magari uno durante il matrimonio chiude un occhio e ci passa il problema poi quando arrivano anche nella crescita dei figli quindi è una conseguenza dei problemi non è un problema solamente dice fidanzamento matrimonio è un problema quando hai figli che te la devi crescere per vent'anni con i suoi dentro quindi insomma il problema cambia un po' è stata chiarissima è molto più grave Mei coppie miste quindi lo sconsiglio le coppie miste ma cos'è stai distruggendo un sacco di coppie miste dai su ma no scusami se tu vivi qua devi prendere usanze di qua se stai in Cina e sei pronta a prendere usanze cinesi ben venga ma tu sappi che il tuo problema non è adesso il problema tuo sarà tra altri vent'anni quarant'anni così quindi se te stai pronta ad affrontare il problema per venti trent'anni a voglia fai quello che vuoi è giusto perché sei pronto ma non ti pensare che sei il problema adesso della cerimonia perché quello è solamente uno sputo su quello che deve uscire fuori l'assaggio esatto ma dalle coppie che conosco io dalle persone che ho conosciuto anche lì al paese perché da dove vengo io c'è molta gente che vive all'estero in Olanda in Italia soprattutto in Olanda no ci sono ragazze che si sono sposate con un olandese o italiano e quando di solito la famiglia di lei dice ah hai trovato un straniero no sai come la guai uno straniero con un marito la questione dei riti diventano molto più flessibili perché l'importante è che la ragazza abbia trovato qualcuno che l'ami qualcuno che la sposa per cui la questione dei riti la famiglia per cui ho visto io appunto lì al paese non viene quasi improvvisamente magicamente terza se lui vuole informarsi come funziona allora la famiglia lei è disposta a spiegarlo se lui dice no ci sposiamo come come si fa dalle mie di parti la famiglia non si pone nessun ostacolo non pone nessuna domanda va benissimo l'importante è che tu fai delle promesse di vita alla mia figlia e io sono contenta non chiedo che segui i miei riti perché so che non sei in grado di capirle e so che non sei in grado di valorizzarle per cui è inutile forzarti anzi molto spesso a volte questi mariti scoprono che dovevano fare questi riti dopo che si sono sposati ma c'era il sai lì e nessuno me l'ha detto ma perché la famiglia di lei non osa imporre dei riti che sanno che sono loro a una persona di un'altra cultura di un'altra società non lo fa pensa prima al bene della figlia sì però le percentuali di coppie miste sono ancora poche non sono così tante perché comunque la comunità cinese ancora i cinesi si sposano tra i cinesi le percentuali piccole o sono quelli grandi quindi arrivati sono state prese in moglie dalle persone sono andate in Cina e si sono conosciute e le hanno portate oppure le nuove generazioni media sono poche sulle dita e non si arriva neanche a 10% ma infatti io non parlo di percentuali ma io non parlo di percentuali si contano sulle dita e sono comunque persone che considerano che o come me che non vado d'accordo con i cinesi oppure a livello di sanone di bellezza non arriviamo perché ci sono anche alcuni a chi è cresciuto in Europa non ha neanche canone bellezza più cinesi quindi a un cinese non ti prenderà mai quindi è tempo perso andare a cercare un marito cinese che lo cerchi a fare tanto non te guardano capito quindi voglio dire è il problema che tu stai già a scarto della tua cerchia perché la cerchia è già ristretta in più c'hai tutti questi parametra rispettare l'età superata perché quindi non sei più sul mercato tra quelle che i cinesi ti possono prendere come moglie oppure perché sei troppo specializzata per cui non ci sono ragazzi che comunque possono essere all'alto altezza e alla fine tu cerchi l'europeo non cerchi ma tu stai parlando stai parlando in specifico del mio caso o in generale non ho capito no ma in generale in generale sto parlando no ma anche delle persone in generale sì sì come me e comunque io l'ho visto perché io comunque dalla parte della comunità non è che sono ben vista per i miei pensieri perché tu quando c'è un pensiero molto occidentale la comunità ha paura perché tu in qualche modo potresti influire i ragazzi loro quindi ti evitano non è che ti accolgono cioè nel senso nella maniera buona come una persona che può essere positiva quindi se tu sei in qualche modo rifiutata dalla comunità poi la tua cerca di amici riguarda le persone che tu frequenta l'università l'università sono tutti italiani alla fine stai con italiani perché ti avvicina di più al tuo pensiero cioè non è che ci vuole tanto secondo me dipende anche uno dal tipo di persona che sei eh di quello che sei te puoi essere quello che sei ma se la tua cerchia è quella è quella non è che dipende da quanto una persona è in grado di essere socievole o meno con tutti ma può essere socievole quanto deve fare però se non c'è un argomento cioè con un contadino può essere socievole quanto deve fare può essere spiritoso quanto deve fare ma finito quelle chiacchierate di due ore che fai per 30 anni 40 anni capito non c'è dialogo è inutile uno può avere tutta l'argomentazione che vuole io mi riferio a una relazione sociale anche tipo di amicizia non per forza di coppia ma noi stiamo parlando di coppie noi stiamo parlando di coppie tu parlavi di cerchi amici di amici universitari tu parlavi di cerchi di amici stai con gli amici italiani però dicevo sì ma sì allora per trovare un qualsiasi fidanzato padre tu cerchi nella cerchia di amici le amici la cerchia di amici è quella è italiana alla fine ti trovi meglio con quelli italiani se la tua cerchia di amici cinesi in qualche modo ci stai bene però loro non ti fanno entrare più di tanto nel loro contesto alla fine ci rinunci a me mi è capitato di capire questa sensazione io non ho amiche cinesi di infanzia ne ho due o tre è l'una con cui insomma ci conosciamo da tanto un giorno mi ha fatto capire perché io i suoi amici li conosco pochissimo mi ha fatto capire che lei parlando con i suoi amici ha detto che dice no ma lei non la facciamo venire perché sennò non sa parlare cinese bene oppure non capisce alcune cose magari cioè è lei che non si sentiva adatto a portare me dentro nel loro gruppo cioè capito quindi di norma un'amicizia può piacere o non piacere posso essere adatta o non adatta io se ho una mia amica e so che sta da sola e vorrebbe uscire con me io la porto in qualsiasi contesto e poi è lei che valuta quale contesto ti piace di più quale no invece i cinesi ti fanno loro la selezione di amicizia quindi già questa cosa è molto differente da italiani nel senso cioè gli italiani non fanno questa dire se stasera si esce a vedere un film uno più a piacere o no però dice si fa una chiacchierata e si guarda il film poi magari il tipo di film non ti piace e dici cambiamo film però a me una mia amica che dopo dieci anni o quindici anni che stiamo insieme vengo a sentire che secondo lei io non sono adatta al suo gruppo di cinese c'è qualcosa che non mi quadra capito? ti senti esclusa si ti senti esclusa eh sì eh cioè voglio dire dovrò valutare io se mi piace o no il tuo gruppo però te a priori non puoi dire no a lei non si chiama cioè ma l'avrà fatto pensando di non far sentire il disagio visto che non capisci magari certe battute io ancora adesso le certe battute non le capisco ma che vuol dire ma neanche io capisco io non capisco sì ma appunto per noi l'importante è partecipare non è capire tutte le battute che c'è che a noi tutte le battute sinceramente no dicevo capisco la metà dei loro discorsi eh sì ma prima di pensare per me devi chiedere a me non devi pensare e fare per me te devi prima chiedere a me e poi ti dico io che cosa ne penso cioè è differente la cosa eh sì pensavo di farti un favore invece ti hanno escluso a priori che forse fa un po' male però l'hai scoputo anni di distanza anni di distanza sì anni di distanza perché poi tra amiche e poi ogni tanto ci si incontra dice ah ma io ho detto se potevi venire ha detto no lei non viene perché è una cosa troppo cinese ma chi te l'ha detto cioè capito a me può anche non piacere una cosa cinese però dimmi Mei la prossima no non c'è la prossima la Shin deve non può rispondere la Shin deve rispondere poveretta sulle coppie miste sulle coppie miste sulle coppie miste secondo me in generale cioè almeno dalle coppie miste che io conosco qui a Shanghai diciamo che la pretesa viene subito a meno quando si tratta di una coppia mista quindi tutti i riti cadono tutte le tradizioni no basta che state bene cioè naturalmente hanno le coppie miste hanno altri problemi che però secondo me non sono legate ai riti o alle tradizioni almeno dagli amici che io ho cioè poi io non ho cioè dalle esperienze che loro hanno avuto e da quello che ho visto che i loro problemi sono altri e non non sono diciamo non sono su principalmente su questi riti e nessuno ha avuto questi problemi quindi rincoriamo queste coppie miste ai buoni dirgli al pubblico di stare tranquillo non è un problema basta che si vogliano bene no 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 allora lo sai qual è il problema delle coppie miste non è il problema il matrimonio è il problema delle donne cinesi secondo me che è influenzata dai genitori che impongono poi alcuni metodi cinesi perché sono ritenute meglio dei occidentali e quello è il problema mamma tigre per esempio allora eh tiger mom mamma tigre che ne so sul modo di istruzione allora no perché sai come si agudisce i figli queste cose qua penso la maggior parte dei problemi che i miei amici hanno riscontrato è stato il matrimonio nel senso che molti dei molti dei miei amici che sono che stanno con ragazzi ragazze cinesi no non volevano convivere o hanno convivevano da tanto tempo ma non volevano sposarsi poi in certi casi la ragazza ci sono delle delle ragazze che sono rimaste incinte hanno obbligatoriamente voluto il matrimonio e tanti italiani non hanno capito e hanno subito visto una come si dice una pretesa insensata esatto perché diciamo che per la maggior parte almeno degli italiani il matrimonio o la convivenza è la stessa cosa loro dicono sempre quello è un pezzo di carta che non vale niente quindi cosa ti cambia sposarti o no invece solitamente la donna cinese dice no è una cosa diversa perché se conviviamo se fosse uguale si chiamerebbe la stessa maniera è differente sì il matrimonio dalla convivenza è normale che sia differente c'è meno garanzia per forza come fa ad essere uguale al matrimonio perché in Cina ancora la donna cioè la donna che partorisce single cioè senza senza il libretto di matrimonio ancora in ospedale c'è un po' strano perché tu puoi non mettere il nome del padre del padre sì e poi soprattutto quando anche il bambino andrà a scuola diventa un problema anche per fare il è un problema sì la residenza esatto quindi questa cosa è stata loro il problema maggiore l'hanno avuto in questo senso non sui riti che poi non sulla cerimonia non sulla cerimonia il pranzo la cena sono proprio la firma praticamente ma è un problema per gli europei la firma il matrimonio perché loro quando non pensano al matrimonio già pensano al divorzio già pensano al divorzio in case di divorzio e tra i divorzi ce non escono mi occupo si è svegliato no sei catastrofista dai Silvia difendiamo gli europei italiani e l'occidentale difendiamoli dopo li invitiamo per cui è negativa per forza sì 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 no apriamo un annuncio no 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 chiunque eh se ne andate chiunque pensa al divorzio sì sì è normale c'è un bambino che si è svegliato poverino ah forse sì no ma il problema che il concetto di divorzio della città in Cina quando si parla di divorzio cioè si mettono a trattare è comunque molto più semplice più snella in Italia quando si parla di divorzio devi fare torte anni di separazione poi ci sono i figli ci sono i mobili i beni è un casino entrano gli avvocati in mezzo quindi è normale aspetta Silvia abbiamo la puntata sui divorzi abbiamo la puntata sul divorzio preparati abbiamo la puntata sui divorzi sì 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 un'altra puntata lì sta tardi e poi colgo l'occasione di invitare prossimi ospiti dei ragazzi che stanno o ragazze che stanno con dei cinesi delle cinesi così sentiamo le coppie miste ecco eh vero sentiamo le loro testimonianze dirette sì e Silvia farà da giudice farà X Factor tipo sì no non va bene stai facendo una gagata ripensaci no dai no no ripensaci non ci vuoto Silvia dai possiamo parlare o altre domande no c'è un'ultima considerazione no l'ultima considerazione molto semplice in cinese vale il detto happy wife happy life moglie felice vita felice dopo la vita felice non potrebbe funzionare sì non lo so non ho idea non ho fidanzato finese quindi non lo so come cioè moglie felice dopo la vita felice non ho sentito di questa specie di detto semmai ho sentito che se hai a casa una moglie fedele potrai spaccare nel mondo del lavoro come dire far successo se hai una famiglia stabile che non hai problemi di corna sì esatto se non hai problemi di corna potrai avere tranquillamente successo nella vita sociale e nella vita lavorativa anche questo è un po' maschilista e quindi se non va bene il tuo lavoro è perché c'è tua moglie ti sta mettendo le corna non ho capito cioè sì che tua moglie non ti dà quella sicurezza di poter trovare una casa amorevole cioè non è l'insapacità del maschio che non è capace è la donna che non dà sicurezza a lui ma comunque oggi vale poco perché oggi come oggi le coppie di solito entrambi lavorano sia lei che lui è vero l'importante è avere una stabilità nella coppia se tu hai una stabilità nella coppia in realtà vale anche per la donna se tu hai un marito fedele che non ti fa le corna anche la donna può pensare tranquillamente a fare carriera questo è un bel messaggio secondo me questo vale per entrambi questo è per adesso perché adesso siamo in un mondo in cui le donne lavorano sono molto dinamiche e sono anche cape sono leader non vogliono che il marito faccia le corna certo certo da quel punto di vista forse la Cina ha qualcosa da mostrare all'occidente per il numero di cape leader boss anche io ho avuto esperienza in Cina di cape femmine di donne di successo diretto le donne di successo sono quelle che fanno più fatica a trovare trovare marito erano tutte sposate nell'azienda dove lavoravo quindi non so si erano già casate prima nel tempo di università avevano 30 anni avevano un marito avevano un marito era assicurante per cui hanno potuto dedicarsi alla carriera sì erano dei bravi ragazzi uno l'ho conosciuto l'altro l'ho visto in foto ma tutti quei tani universitari si sono conosciuti in università bravi ragazzi veramente quindi quel senso lì vale sia per maschio che per la donna cioè quello di avere in casa la moglie amorevole vale anche per il maschio cioè se io c'ho un marito amorevole fedele io posso dedicarmi alla mia carriera tranquillamente e avrò successo perché è una stabilità psicologica mi piace questo pensiero ma i figli in questo caso se la donna dicevo ma in caso le donne fanno carriera e l'uomo lavora di norma i figli a chi viene lasciato nonni nonni anche in Italia è uguale tutti i nonni eh sì i nonni i nonni contribuiscono molto molto anche perché i figli i nipoti li vogliono i nonni mica la coppia quando si sposano sono i genitori che spingono ad avere figli e quindi quando li fai gli dai direttamente guardi ti ho fatto il bambino tieni adesso ve li guardate e i nonni sono ben contenti di guardarsene li parcheggiano dai nonni più in Cina che in Italia sì molto in Cina molto in Cina ma li fanno giovani adesso non diciamo l'età però già i 30 anni già sfornano in Cina l'età media è più bassa che l'Italia anche prima sì 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 questo per farlo sapere va bene concludiamo concludiamo va bene va bene allora se vi è piaciuta la puntata mettete un mi piace iscrivetevi al canale e soprattutto scrivete per partecipare perché vogliamo appunto fare una puntata sulle coppie miste quindi candidatevi anche qualche maschietto visto che qua la platea è tutta femminile è solo femminile i maschi non si fanno avanti eh sì e vabbè dobbiamo trovarli dai piano piano ci sarà sì ci sarà ci sarà questione di tempo che si fanno coraggio secondo me dobbiamo provocarli un po' e poi magari si fanno vengono fuori no diciamo ma secondo me i maschi verranno fuori a dire la loro dai confido nella coppia mista che venga fuori ok ciao ragazze ciao 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 ciao